A pochi giorni dalla proclamazione a Capitale della Cultura, il primo appuntamento di Pesaro Capitale ha visto questa mattina il cuore del centro storico occupato dalla poesia. Merito del pane e le rose, l'iniziativa che dal 2016 convoglia le scuole pesaresi nel 21 marzo, giornata mondiale della poesia. Lirica in piazza, poesia al San Domenico a Palazzo Gradari e Palazzo Mazzolari, sia in presenza che in video per un grande contenitore promosso dal liceo Mengaroni e ideato dalla professoressa Sonia Marini. Il pane e le rose è una manifestazione che nasce nel 2016 con l'idea di condividere la poesia sopra ogni distinzione anche di scuole. Negli anni la cosa è diventata sempre più grande, l'anno scorso abbiamo fatto un evento online che è durato una settimana, l'anno prima eravamo stati bloccati dal covid e quest'anno finalmente riusciamo a fare tutto in presenza. L'idea è quella, come recita anche il sottotitolo, intrecci poetici o poesie in rete, di unire tutte le scuole di Pesaro e addirittura abbiamo anche una scuola di Urbino, il Raffaello di Urbino con grande piacere, e condividere questa giornata di poesie. Bellissima iniziativa di Sonia Marini e del Mengaroni. Noi abbiamo partecipato insieme alle altre scuole anche perché a scuola all'interno del progetto biblioteca noi già da anni abbiamo attivato un laboratorio di poesia e se prima serviva magari per aiutare i ragazzi ad esprimere le proprie emozioni, i propri sentimenti, tutto ciò che magari non riuscivano a dire con le parole diciamo consuete. Adesso devo dire che è diventato ancora più importante questo laboratorio di poesia dopo questi due anni di covid e di pandemia e con questa guerra che è esplosa proprio alle porte di casa diciamo, perché i ragazzi effettivamente hanno veramente bisogno, tanto bisogno di esternare tutta una serie di pensieri che sono, che abitano dentro di loro ed effettivamente lo sguardo sulle cose, noi ad esempio prendiamo molto spunto dalla natura che c'è intorno a Villa Caprile, quindi al parco San Bartolo e lo sguardo è cambiato, è cambiato, è più triste, è preoccupato e questo emerge tantissimo, quest'anno è emerso tantissimo dalle loro poesie, tant'è che infatti il laboratorio di poesia a scuola serve tantissimo proprio per creare benessere. Una grande giornata dedicata in questo caso alla bellezza delle parole, ovvero la poesia, una delle arti più nobili della comunicazione, del sentiero umano, oggi rappresentata benissimo da tutte le scuole in rete, una grande occasione per lavorare su dei temi importanti, sempre con la passione che le nostre scuole ci dimostrano giorno dopo giorno e oggi non posso che unirmi ai festeggiamenti e alla bellezza della poesia.